Bene, allora oggi cerchiamo di tirare le fila di questa rottura di coglia, di questa terapia, vediamo di ricapitolare. Dottoressa, mi scusi ma oggi io la sento un po' ostile. No, 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 niente affatto, perché? Allora, tu sei in fissa con questo Lord Voldemort. L'ha nominato. Tu invece non ti ricordi un tubo? Ma che dice a me? E poi c'è questo disgraziato, questo disgraziato che non mi richiama. Io le ho detto che era un tipo poco affidabile. No, per non parlare poi di Marco, scusatemi ma dove è finito Marco? Ah, che miseria, lingue che duellano come impazzite. Scusi signora, ma lei chi è? Come che sono? Io sono la donna, la madre, madre di mio figlio. È la madre di coso il ragazzo che cucina? Ah, bene, piacere signora, suo figlio dove è finito? È mio figlio, marito di una donna, della sua radice, è a Delphi. Giocasta. Gioco gli amici. Quindi ha una moglie, ma dov'è Delphi? Pure una moglie. Signora, mi pare che lei anche sia attrice. Perché non rimane un po' con noi e ci delizia con questa sua vena tragica, eh? Oh, tragica chi, bello? E tu dunque non rientri nel palazzo, oh creonte? Oddio, un altro nome da ricordare, non ce la posso fare. Ma qui manca un bicchiere. Oh, sì, eccolo. Dunque mio figlio molte donne incontrò. Scusi, ma perché sta dicendo questa cosa? No, 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 che cosa vorrebbe insinuare? Io ho solo domandato dove fosse finito suo figlio. Il mio donato sta consultando l'oracolo per accedere a una gara di ivagioni. Dice che sta facendo un concorso online di cucina. Ecco, speriamo che non mi scarichi anche questo. Ma non avete pudore a frugare le vostre miserie con Tebe nella lepra, eh? Oddio, anche Tebe, io mi sto perdendo. Cosate, ma io non ce la faccio più e non ne posso più, non vi sopporto più. E tu, che sei infista con sto lord, va te la pesca. Tu invece che non ti ricordi niente, neanche avesse il cervello di un pesce rosso. Poi c'è quell'altro mantecato, mentecatto, che non vuole essere chiamato suggeritore. È quella che crede di essere ad usare incarnata. E poi c'è infine sto grandissimo figlio di put... E poi c'è Giuseppe che se ne è andato e non ritorna più. Ma quello non era Marco? Ma dai, quella è la canzone. Fatti mi andare dalla mamma. Scusatemi, devo rispondere, un nutricionista molto importante. Pronto? Amore, sei tu? Oddio, sei tornato? Sì, sì, sei qui sotto. Per fare la spesa insieme al Carrefour. Ma certo, ma certo, arrivo subito. Grazie. Grazie.